Assolto in appello a Firenze l'avvocato Jacopo Bigiarini, ribaltata così la sentenza di primo grado che lo aveva condannato, con rito abbreviato ad un anno e quattro mesi. Un colpo di scena nel caso Coingas. Il fatto infatti per i giudici fiorentini non costituisce reato. Bigiarini era indagato per concorso nel peculato in relazione ad una delle consulenze affidate da Coingas allo studio legale Olivetti Rason di Firenze e finita nel mirino degli inquirenti. Per quella stessa consulenza erano stati condannati anche l'ex amministratore legale fiorentino Olivetti Rason che ha presentato appello. I giudici fiorentini adesso non avrebbero ravvisato profili penali nelle condotte di Bigiarini, che ha restituito i 14.000 euro della consulenza e ha sostenuto che non sarebbe stato a conoscenza di una manovra sottostante all'incarico, ossia il flusso di denaro di Coingas verso lo studio Olivetti Rason senza una reale giustificazione secondo l'accusa. Sul processo principale di Coingas invece si attende alla fissazione dell'appello.